Grazie a tutti La scomparsa di Eco sia la scomparsa di una personalità del mondo della cultura internazionale tra le più grandi dell'ultimo secolo e dello scorso di secolo che stiamo vivendo e sulla sua grandezza ancora dovremo capire molte cose. Per me era un amico e lo ringrazio di averci voluto così bene fino in fondo per la pluralità delle idee, per un mercato indipendente, di aver voluto fondare, lui che avrebbe potuto pubblicare un qualunque editore, una casa editrice indipendente come la Navio di Teseo. Aveva ancora grande entusiasmo. Sì, aveva un entusiasmo che è pari al mio, che sono già una persona molto entusiasta, ma sono un po' più giovane e ha creduto fortemente nelle idee. Questo mi fa rendere agli occhi di tutti un uomo supremo, un uomo assoluto, un uomo completo. Ho perso una grandissima personalità, ho perso un maestro, abbiamo perso il mondo soprattutto, perché abbiamo avuto veramente una storia, un affetto di libertà, un affetto di persone, di una famiglia, di un paese che aveva superato i punti dei nostri paesi. Ma non ha mai perso la sua visione, non abbiamo perso la sua opera, ma non abbiamo perso la sua opera, ma abbiamo perso la sua opera, per esempio, per esempio, per esempio. Quindi, caro professore, carissimo mezzo, oggi è tutto il mondo. Grazie. Grazie.